Musica Ben trovati all'appuntamento con Detro Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, anche in questa edizione tre temi. Ecco i titoli. Parleremo della targa in memoria delle 140 vittime della strage del Mobi Prince che è stata apposta nella biblioteca della regione toscana. Uniformità e trasparenza nella gestione delle liste per la somministrazione dei vaccini e Bezzini che ha risposto in aula all'interrogazione dei consiglieri d'Italia Viva. E poi si parla di riapertura delle scuole e delle attività di fitness e sport con una mozione respinta presentata da Forza Italia. Nel trentesimo anniversario della strage della Mobi Prince a largo del porto di Livorno, dove è perso la vita 140 persone, il Consiglio regionale si impegna a continuare a sostenere il lavoro dei familiari nella ricerca della verità e a mantenere vivo il ricordo delle stragi in Toscana, rafforzando le iniziative per la diffusione della cultura e della legalità. Questo è quello che prevede la prima parte di un dispositivo di una mozione del PD, il primo firmatario Francesco Gazzetti, che l'Aula ha approvato con voto all'unanimità. La mozione inoltre impegna la Giunta a sostenere con forza l'istituzione di una nuova commissione di inchiesta parlamentare per l'accertamento delle responsabilità e a continuare nel sostegno appunto dei familiari delle vittime. Ma nel primo pomeriggio, prima della seduta d'aula che si è tenuta il 13 di aprile, è stata svelata la targa in ricordo appunto delle 140 vittime della strage. Il Presidente del Consiglio Mazzeo ha posto una rosa rossa, la targa è stata collocata all'interno della stanza della biblioteca del Consiglio regionale, che ha sede in piazza dell'Unità Italiana a Firenze, in cui è stato allestito anche l'armadio della Memoria, un luogo simbolico dove sono raccolti i documenti relativi a tre stragi che hanno ferito la Toscana. La strage del treno di Viareggio, quella della Costa Concordia e appunto la strage del Movi Prince. È un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana. Quando il 10 di aprile sono stato a Livorno, negli occhi dei familiari delle vittime, c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia. Noi oggi ponendo, deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Movi Prince vogliamo dare un segnale chiaro, il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate. Sono insieme ai colleghi dell'Ufficio di Presidenza, alla collega Fratoni, al collega Casucci, insieme al collega Gazzetti e al collega Landi per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa e per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla. Quali provvedimenti il Governo regionale intende adottare per garantire uniformità e trasparenza nella gestione delle liste per la somministrazione dei vaccini e eventualmente residui a fine giornata? Questa è una richiesta, la richiesta principale dell'interrogazione dei consiglieri di Italia Viva a cui ha risposto in aula l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini che si è soffermato anche sull'altro tema sollevato relativo alla possibilità di estendere a tutta la regione il sistema panchina adottato dall'Asda Toscana Sud-Est per le dosi vaccinali avanzati. C'è un'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega che ha visto l'assessore alla sanità Simone Bezzini mettere nero su bianco tutti i numeri riguardanti la campagna vaccinale per la fascia di popolazione di età superiore agli 80 anni nel primo trimestre, ad esempio del 2021, in Italia sarebbero dovute arrivare 28 milioni di dosi in Toscana un totale di 1.835.135 ma a oggi la Toscana ha effettivamente avuto soltanto 1.5.700 dosi di cui sono ministrate 891.830 dosi. Anche questa volta per la terza volta abbiamo portato un atto per fare chiarezza sulle vaccinazioni agli ultraottantenni vaccinazioni che evidentemente nei numeri in passato è stato chiaro che la regione toscana è rimasta indietro è rimasta indietro rispetto alle altre regioni a livello nazionale e i numeri non tornano. Noi abbiamo chiesto chiarezza, chiarezza su quel termine altro che veniva individuato nella categoria vaccinata con il Pfizer che è chiaramente un vaccino da destinare in maniera specifica a coloro che operano in prima linea nell'ambito sanitario e agli ultraottantenni. Ancora ad oggi non abbiamo capito in questa categoria altro chi sono stati vaccinati, faremo un accesso agli atti. Noi eravamo avanti sugli over 70, avanti sui novantenni, sui fragili è un dato un po' anomalo quindi non si sa bene anche le altre regioni come sono messe e indietro sugli ottantenni. Sugli ottantenni abbiamo recuperato e siamo ancora avanti sulla fascia dei 70-79 e ovviamente gli over 90 quello va da sé. Quindi il limite ancora oggi continua ad essere quello dell'arrivo dei vaccini. Avevamo la notizia positiva dell'arrivo di Johnson & Johnson che come abbiamo visto purtroppo rimane anche questa subiudice e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Bene, anche il fatto è che si possano utilizzare più metodologie di vaccinazione, i medici di famiglia stanno facendo la loro parte, però bene anche l'utilizzo degli hub. Credo che gli over 80 debbano essere fatti quanto prima, così come le persone fragili e credo che si debba avere certezza delle dosi e un'organizzazione che deve essere supportata dalla Commissione speciale. Noi abbiamo chiesto che venga istituita velocemente e questa perdita di tempo non è necessaria, serve che maggioranza e opposizione si possano incontrare per dare un supporto fattivo, collaborativo e questa Commissione deve essere costituita anche da degli scienziati, da dei tecnici che possano supportare il soggetto decisore politico per fare una migliore azione massiva che nei prossimi tre mesi possa consentire effettivamente di completare la vaccinazione. Se non arrivano i vaccini diventa difficile vaccinare. Abbiamo contestato in una prima fase alcune scelte della Regione Toscana, non eravamo favorevoli a far vaccinare gli avvocati, avevamo ragione, oggi gli avvocati non si vaccinano più. Abbiamo chiesto di vaccinare immediatamente gli over 80, la Regione era indietro, oggi sta facendo con un sacrificio un avvicinamento a quello che è la media nazionale anche seppur in difficoltà e con dati peggiori della media nazionale. Avevamo chiesto di far vaccinare tutti i malati oncologici, non soltanto quelli che hanno finito la chemioterapia o le cure entro i sei mesi, ma di vaccinare tutti quelli che sono in follow up, cioè tutti quelli che hanno i cinque anni previsti dal sistema sanitario nazionale e dal sistema sanitario regionale con i codici di esenzione. Il Consiglio regionale ha detto che avevamo ragione, aspettiamo che anche il Ministro apra tutti, perché diventa inaccettabile vaccinare solo una parte di quei malati. E mi domando, gli altri non sono fragili, non sono super fragili. Tutte le statistiche dimostrano che il 16,7% dei malati oncologici nei cinque anni di follow up, se prendono il Covid, muoiono. Per noi è inaccettabile, vanno vaccinati tutti. Il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini, i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate, fragili, over 80, coloro che hanno bisogno di avere la somministrazione presso il proprio domicilio, che continuano a impazzire da un sito all'altro. C'è ancora troppa confusione in questo. La regione toscana deve attrezzarsi molto meglio nel dare risposte e soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica, specialmente quando si parla di over 80, perché andare su un sito internet non è la stessa fatica per un ottantenne, per il sottoscritto o addirittura per un sedicenne. È evidente che è un percorso differente. Ancora oggi la piattaforma dava delle criticità, per esempio i riservisti non si possono prenotare perché già probabilmente inseriti al sistema e non riescono ad accedere. Quindi in pratica abbiamo di nuovo questo problema. Abbiamo il problema che ancora molti over 80 non riescono, non hanno vaccinazione, non sanno cosa fare, aspettano di essere chiamati ma non sanno se saranno chiamati e la commissione speciale che era stata richiesta ancora non si attiva. Probabilmente l'attiveranno quando ormai sarà arrivato il governo nazionale a imporre alla Toscana una sterzata netta su come viene gestito il piano vaccinale che continua a essere fallimentare nonostante si continui a dire che le cose stanno migliorando. Già il fatto che dicano che stiano migliorando in pratica è un implicito riconoscimento che finora sono andate male e io dico molto male in realtà. Tra zone arancioni e zone rosse c'è anche il problema reale del settore fitness per la Toscana e non è più sostenibile riaprire urgentemente palestre e piscine seguendo il principio di massima cautela nel rispetto di tutte le norme necessarie a contrastare la diffusione del virus con protocolli di sicurezza. Quanto ha chiesto il capogruppo di Forza Italia Marco Stella con una mozione che però è stata respinta dal Consiglio regionale. La parola d'ordine d'ora in poi deve essere riaprire. È inaccettabile che si continui a tenere le attività commerciali chiuse. Da un lato noi dobbiamo certamente accelerare la fase vaccinale ma dall'altro se chi ci governa non si rende conto che riaprire diventa un elemento essenziale anche per evitare quelli spiacevoli episodi che giustamente i manifestanti manifestano per il loro lavoro, i loro diritti, le loro aziende, la fatica con la quale in tanti anni magari ereditando dal padre hanno mantenuto la propria bottega, il proprio taxi, il proprio banco d'ambulante, il proprio bar, il proprio ristorante, il proprio lavoro da guida turistica manifestano che è inaccettabile vedere che si continui ancora a tenere chiuso. Occorre riaprire. Da un lato si è chiesto alle imprese di fare investimenti, alle palestre di comprare i plexiglia, agli estetisti parrucchieri di mettersi in sicurezza, alle piscine di mettersi in sicurezza, ai bar e ristoranti di mettere tutte le norme igieniche e dall'altro si continua ancora a tenerli chiusi. Questo diventa inaccettabile. Guardate, è un paese strano questo, dove si riaprono gli stadi ma si tengono chiusi i teatri e i cinema. Mi domando ma che male c'è a fare una manifestazione per esempio all'Aperto, all'Arena di Verona, alle Terme di Caracalla o al nostro bellissimo teatro romano di Fiesole. Che male c'è se si mantiene il distanziamento, se si usano queste, le mascherine, il materiale di protezione individuale, se si sta all'Aperto ma si continua ancora a tenere tutto chiuso. È inaccettabile, non solo è inaccettabile, se non si riapre in maniera immediata noi rischiamo di far chiudere le nostre aziende e soprattutto di dare in mano alla malavita quelle poche che rimarranno ancora aperte. Ecco perché anche oggi ho portato in Consiglio regionale una mozione per chiedere la riapertura di palestre e di piscine. Mi dispiace aver visto che il Partito Democratico ha votato contro. Sono fermamente convinto che riaprire le attività commerciali non mette in pericolo niente, anche perché le attività commerciali erano chiuse ma i contagi continuavano ad aumentare. Io ho la sensazione che il contagio lo si trovi non nelle attività commerciali dove il proprietario mette in atto tutte quelle misure di cautela necessarie ma lo si trovi per esempio sul trasporto pubblico. Ed è un paese strano dove si vaccinano gli insegnanti giustamente ma si tengono le scuole chiuse. Da una parte con il cuore siamo vicini a coloro che ormai non stanno più sopportando le chiusure, dall'altra parte il grande equilibrio di dover tutelare la salute dei cittadini e degli ospedali soprattutto degli operatori che in questo momento stanno soffrendo. Quindi è importante secondo me valutare e avere anche la possibilità di fare quell'esercizio un pochino più approfondito ovvero di poter andare, ora in base anche a quello che sceglierà il Governo, alle riaperture come già avevamo chiesto peraltro nella scorsa chiusura, nella prima ondata, andare per chiusure laddove ci siano veramente dei casi, un numero di casi superiori alla norma. Era un po' l'interrogativo che ci eravamo posti appunto qualche mese fa. È necessario chiudere tutto anche laddove non ci siano casi e contagi? Beh è un po' il principio su cui proveremo a riflettere nei prossimi giorni ovviamente sapendo che la Regione non ha autonomia in quanto a riaperture ma noi possiamo semplicemente andare a capire quali siano i contagi e lavorare perché aumentare la campagna di vaccinazione che ricordo è il vero problema perché mancano i vaccini può sicuramente dare una spinta e favorire anche le riaperture. A mio avviso questa storia dei colori, giallo, rosso o arancione che sia deve terminare perché non può più durare un lockdown permanente a distanza di un anno. I numeri ci dicono questo, peraltro per effetto di tutti questi ripetuti lockdown non è che il quadro sia migliorato al cospetto di altri paesi europei, quindi diamoci delle regole magari rigidi ma rispettiamole e consentiamo all'impresa di lavorare così come alle scuole di essere aperte. Noi lo stiamo dicendo in tutte le sedi istituzionali che laddove si può riaprire è consentito dai dati e si può riaprire in sicurezza con tutte le norme del caso si deve riaprire. Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo consentire ai nostri cittadini di lavorare perché questo ci chiede ormai la nostra cittadinanza, quella di poter tornare a lavorare. Siamo un popolo di lavoratori, non siamo persone che vogliono stare con le mani in mano e riteniamo che laddove c'è la possibilità si debba farlo il prima possibile perché salvare l'economia è indispensabile. Anche nella nostra regione sappiamo benissimo che la maggior parte delle nostre attività sono fatte di piccole imprese a conduzione familiare quindi le stiamo mettendo veramente a repentaglio il futuro anche di piccole aziende che ormai sono tramandate da generazioni. Dobbiamo consentire laddove è possibile di riaprire il prima possibile. Questo è quello che la Lega ha già chiesto tramite Matteo Salvini al Governo e che continueremo a chiedere finché non ci sarà dato. Ovviamente bisogna che anche le altre forze politiche capiscano, soprattutto quelle che sono al Governo, che l'esigenza ora è stringente, che c'è bisogno di dare risposte, di dare delle date e soprattutto di consentire a chi può farlo con la normativa giusta e con tutte le accortezze del caso in zone dove la pandemia lo consente, di poter tornare a lavorare il prima possibile. Le riaperture ci devono essere, devono essere fatte con molta cognizione di causa e con attenzione. Ecco perché non si può andare in maniera isolata la regione toscana piuttosto che altre regioni. Io credo che molti professionisti siano in grado in questo momento di riuscire a lavorare, magari meno, ma in sicurezza, però tutto questo deve essere concertato insieme a dei tecnici che sappiano anche fare queste valutazioni. Io continuo quotidianamente a fare un esempio. Se tu esci di casa, la sera torni e trovi il bagno allagato, tutte le mattine esci e prima di uscire chiudi l'acqua al lavandino. Torni la sera e trovi il bagno allagato, richiudi l'acqua al lavandino. Torni la sera e trovi il bagno allagato o provi a chiudere la doccia perché forse la perdita non arriva dal lavandino oppure continui a chiudere il lavandino e vivere con l'acqua che ti arriva alle caviglie. La scelta di Draghi, come quella di Conte, è di continuare a chiudere il lavandino e l'acqua non è più alle caviglie, ma ora inizia ad arrivare quasi alla bocca degli italiani. E per questo aggiornamento è tutto. Per tutte le informazioni vi ricordo il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il Consiglio. www.consiglio.regione.it.